Di nuovo buon mercoledì a tutti, Coppa Italia, Coppa Italia secondo turno, partito ieri, il Torino perde in casa 2-1, il Torino capolista della Serie A perde in casa 2-1 contro la rivelazione Empoli, un Empoli che quest'anno sta regalando veramente tante gioie in questa inizia di stagione ai propri tifosi. Il Sassuolo va a vincere 2-0 a Lecce e si porta a casa un ottavo di finale contro il Milan, quindi una grandissima soddisfazione per gli Emiliani e un Cagliari che in questo momento aveva bisogno di avere una svolta, una reazione, un cambio di questa stagione, batte 1-0 la Cremonese, passa il turno e riacquista consapevolezza. Una consapevolezza data da una squadra secondo me di valore che non ha raccolto i punti che meritava di raccogliere, una squadra che sicuramente merita qualche cosa di più. Un secondo turno di Coppa Italia che quindi regala la sorpresa dell'Empoli che vince Torino, regala la sorpresa del Sassuolo che va a vincere a Lecce e regala la conferma del Cagliari che batte 1-0 la Cremonese. Vedremo le altre partite che ci sono in questi giorni per avere la possibilità di capire se ci saranno altre sorprese o se questa Coppa Italia regalerà delle grandi conferme. Vi ringrazio sempre a tutti per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra, iscrizione gratuita e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!